ragazzi oggi sto su minecraft non so come ho fatto ce l'ho fatta non lo so come allora dobbiamo fare un mondo sopravvivenza e lo chiamiamo vai vai sperai che io ho difficoltà a scrivere a posto oggi siamo su minecraft creerò un mondo nuovo 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 se lo so creare dipende sto registrando si si sto registrando allora siamo ma che è sto schifo ma sto in mezzo alla fogna prendiamo la legna allora veloce 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 ho preso i semi che devo fare con i semi li pianto ma non si fa così un porco e papi che sta a posto frata ma sora ma ma che la sora testi dove la legna così devo fare i bastoncini dove fai film bus a posto facciamo piccone questo come si facevi piccone ecco il piccone ma ci dobbiamo andare via la pietra vorrei trovare un villaggio io perché nei villaggi posso pure trovarci un fottuto diamante quindi io il diamante me lo gusto ma perché c'ho i capelli bianchi mica ho riferimento alla vita reale che ma non ce le più bianche si è tolta la tintura poi ma mi stava arrampicando spiderman spiderman il suo nome è spiderman allora io non vedo un cacchio la giù c'è la montagna andiamo più alla pietra ok mi sono fatto male vabbè là dentro mi sembra l'inizio di un film horror io non ci vado ronco le scatole a peppa vite dammi il tuo cibo ti mangio pure la famiglia ti mangio pure la famiglia tu ti devi mettere paura quando mi è diversa dovete non lo manda ma come sto godendo ma come io sto godendo di ammazzare le pecore ti regalo un fungo pigliatelo sto fungo allora io vorrei un villaggio ma pure grande lo voglio pure grande sto villaggio non è che lo voglio tipo piccolo lo voglio grande comunque c'ho la sedia da gaming rotta io sto seduto sopra sta il 65 per cento di possibilità che si smonta la sedia mentre io sto seduto sopra ok qui abbiamo la nostra pietra e noi ce la prendiamo ho visto una cosa bruttissima se non sbaglio forse me la so immaginato vabbè era tipo una pecore ho visto una pecore tutta abbagata che si muoveva ok adesso abbiamo la pietra e ora con la pietra di ori potremmo fare che le copine ma ah ma posso fare direttamente qua io pensavo che me li dovevo craftare io invece che li puoi mettere direttamente e raga sono rimasti indietro con minecraft ho fatto l'aggiornamento ho dito ma questo non è più minecraft io ci faccio mai giocare chi sta non mi ricordo più niente mi ricordo che devo battere l'ender drago nella mela manilla io però vorrei un villaggio se io non trovo il villaggio mi faccio direttamente la casa e quindi ci dobbiamo mettere paura perché la casa nasa ci fa ho sentito dei rumori tipo stavano sbraitando qualcuno la mucca infame è stata guarda che brutti rumori che fa quando vi gli squirna no non te lo prendi squirna sto registrando perché ogni tanto controllo che metto paura che zomber zomber registrazione il registrazione non la registrazione il e poi datemi un villaggio con questo legno fa schifo non solo per i colori ma pure per i co cioè è pezzotto è un legno molto ma è mai possibile che io sto in mezzo a fa tarzan come scendo da qua sotto aia 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 ok siamo scesi senza farci un graffio adesso possiamo continuare poi io rompo l'acqua prossimo aggiornamento i blocchi d'acqua stavo facendo così sui secondi pavimento allora si sta facendo notte allora ci dobbiamo muovere perché se si fa notte esce l'isis qua fuori quindi è meglio se ci muoviamo saliamo sopra pecorino grande latrina andiamo di qua questo video lo devo chiamare ammazzare le pecore con me la gialla è un tutorial di caccia questo video no perché io c'ho bisogno si ma sto personaggio magno ogni due secondi ma manco io magno così questo non è che cucina la casa magni cruro ma ripensandoci è meglio tornare nel cesso là in fondo cioè è molto calino è molto tranquillo qua vabbè facevo fin da niente quella caverna non mi dà aria di caverna molto sicura se io mi faccio la base qua ferro 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 come lo piglio non c'ho un cazzo piglio la terra raga ferro il ferro del sacro frello ferro ferro manco quando tenevo l'apparecchio parlavo così da merda ok vai 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 muoviti che se ne scappa il ferro se ne scappa poi se ne scappa tu scappi adesso ok sta qua dietro prendiamo un po di pietro consumiamo il piccone di legno che è meglio qua mi è sembrato che vedete una casa non lo so vedete là in fondo dove tengo la croce mi sembrava un tetto no io dopo te no raga ma quelli sono dei detti raga dove tengo la croce qua quelli mi sembrano dei detti raga mi sa mi sa che quello è un villaggio mi sa mi sa che quello è un villaggio dopo devo andare lì però adesso ci gustiamo questo ferro solo due ma che poverata ma che è sta poverata due di ferro c'hanno più soldi villager allora raga questo è salto della fede ok ho fatto il salto della fede ora devo andare al villaggio no raga veramente mi sembra che è un villaggio raga è un villaggio mi sa no raga perché quelli hanno una forma strana se sono alberi raga mi butto dal balcone volpe ti togli levati dai coglioni levati pure tu devi andare al villaggio no l'ho visto prima io vediamo chi è facciamo la gara vediamo chi arriva prima eh non ci arrivi non ci arrivi ne io vado veloce ma io corro non mi fermo più fai bomba bombastic fantastic allora raga vediamo non è un villaggio non è un villaggio io lo sapevo lo sapevo che erano degli alberi non è un villaggio non è un villaggio non è un villaggio non è un villaggio mi devo costruire la base non gliela posso fottere ai villaggi ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo vabbè ma che vaffanculo devo 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 essere contento perché almeno ho trovato il villaggio l'ho trovato appena in tempo perché sto tramandando il sole mi devo muovere in questo video sto rischiando di morire 300 volte cagnolini no e io me lo bagno io eh vaffanculo stupano è merda cagnolini 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 sei stato tu a uscire questa povera cristiana ok dobbiamo essere contenti di aver trovato il villaggio abbiamo un po' ma quando ci facciamo i cagnolini cagnolini Ah ho capito, sono quelli là del villaggio Vabbè continuo a maniare perché i personaggi Mi animano Manco il mio compagno di classe più chiatto Magna così E balla la macarena la scimmia Aiuto No 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 Fatemi uscire, fatemi uscire So finito dentro un buco, mi dissocio malissima Fatemi uscire, fammi uscire Dove si entra? Levatevi dai coglioni Uh bella me la piglia Vai a dormire, dormi Dormi, non ti alzare più Paralizzati nel letto Oh se non vuoi, mocca mamma Mamma, asaglio Oddio, una pizza No, torta di zucco Vai via, vai via No 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 Sto piacendo infarti Sì vabbè, vado all'altro, c'è pure il bambino No io scappo E la madonna, quanta roba Vorrei trovare un fabbro C'è un fabbro Come è fatto il fabbro? Che cos'è? Vabbè me lo piglio Uh E la madonna, cibo Questo ci serve Allora Vabbè andiamo un attimo di qua Questo ci serve Oddio L'armatura Ma sembro fantozzi Oddio Questo mi danno smeraldo Non lo voglio lo smeraldo Povero Usalo Usalo per te Serve più a te chiammi lo smeraldo Ah, questo è il villaggio Cioè Questo è un villaggio Questo è un quartiere C'è un'altra casa Due case Uh Vabbè La madonna Vabbè Direi di farci la casa Proprio dentro il villaggio Praticamente Quindi facciamo così Ok raga La casa Ce la possiamo fare Tipo qua Qua vediamo Che ce l'hanno fatto Pure il ponte Sono molto gentili Si è rotto un pezzo di erba Da solo Ma io non vi faccio domande Vi prometto Che se trovo uno scheletro Gli tolgo Gli stacco tutte le parti del corpo E quelle dobboli Ok raga Facciamoci la casa Facciamoci la casa Allora Anzi Facciamoci lo schema Della casa Lo schema poi La faccio a occhi e croce Ho sentito rumore Ma non fa niente Allora Ce la facciamo ad occhi Occhi e croce Opposto Eh lo so che la casa fa schifo Lo so E che ci pazzo fa Mocca Allora 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 Tu non hai visto niente Vattene Mi vuoi sfida Perché mi stai guardando In dall'occhio Allora Prendiamo un altro po' di legna Questo gioco lo chiamano Boscaiolo simulator Ok Prendiamoci pure Quest'altro albero Dai Che ci facciamo Una bella casa A due piani Pezzottissima Come lo schifo Allora Dobbiamo fare il pavimento Dobbiamo fare De pavimento Allora Per fare il pavimento È meglio usare la pava Perché io non sto Un'ora e mezza A scavare con le mani Io sono uno Che fa le cose di lusso Vai Prendi Prendi Dai che ci sei Finché non si consuma Il piccone di legno Prendo pietra Tanto questo mo Dura un'ora e mezza Sto picco Dura fine domani mattina Stavo dicendo Il piccone dura due secondi E vabbè Finiamo la casa Vai scava Scava Chi cazzo è Platanum Platamun 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 Allora vai Questo Dobbiamo fare il pavimento Ah ma va che bel pavimento Ok Iniziamo casomai A metterci le cose Il mio letto Lo volevo a giallo Che era più Era più fashion Il letto giallo Solo che in quel villaggio Non ce l'hanno fottuto Cazzo di niente Ovuncinavi E trovi Che sei nella casa tua Vanno scostumati Ok finiamo La casa Cioè La casa Cioè finiamo qua Ah devo fare la porta Bah ma io me la vado a fottere dai village Io uso la linea Per fare la porta Secondo te No Dov'è un po' di sabbia Che voglio fare le finestre Però mi serve anche la fornace Vediamoci sta porta Allora voglio farmi la fornace Così Ci vediamo pure Le finestre Facciamo tutto il lavoro chic Uno Uno Due Sennò c'è Poi che ce ne servivano otto Ok Scegliamo Mo ci andiamo a fare la fornace Mettiamo la porta Fornace E non c'è Il carbone Allora Potrei cuocere con il legno Ma però Il legno è importante Posso scegliere Se finire la casa O consumare tutto il legno Per cucinare Bah io sceglierei Se finire la casa Secondo me Che è molto Una cosa più Più sicura Qualcuno c'ha un po' di Robbe da darmi Tu C'hai un po' di carbone Visto che tu sei così Ma io ti fotto tutto Ti fotto tutto Ti fotto pure C'è sto l'immondizia Ma Mi faccio dormire In mezzo alla strada Ok Forse questo me lo può dare Carbone Carbone Anzi Carbonella Questa è la mamma del carbone Carbonella Che è sto coso Questo mi serve Bravi Advin Nataì Ma questo villaggio È di mia appartenenza Mi dico pure le torce Perché a 3 anni Sto a buio in casa Due torce Levatevi Levatevi Che devo tornare a casa mia Casa mia Guarda quanto è bella La più fashion del villaggio Non c'è Questo Mettiamo questo qua Il cesto dell'immondizia Lo mettiamo qua Sto coso La mola Il dente Il dente lo mettiamo qua Mettiamo le torce Una qua E una qua Prendiamo un altro po' di legna Ok Prendiamo un altro po' di legna Da questo buonissimo albero Ok Vai vai Sto pure senza cibo Mi sa Devo controllare se ce l'ho Ce l'ho C'ho C'ho il pane quotidiano Non posso Legno Ah un gioco rilassante Quante giorni Quante notti Vivendo un rage game Guarda dove si è bloccato Il pezzo di legno Scendi Bravo Il pezzo di Allora Teniamo qua Tieni c'ho proprio la scala Mi sono fatto per salire Dai dobbiamo fare il tetto Abbiamo finito Anzi le finestre Forse non ce la faccio Di pochissimo Ce l'ho fatta E mi ha avanzato pure un blocco E io ne vado fiero Perché adesso questo blocco Io lo metto Qua Madonna che eccesso Allora Finestre Finestre Facciamo così Molto 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 bello Bellissimo Adesso Continuiamo così Adesso Basta cuocere Non mi consumare tutto Anzi Cuoci questo po' di carne E il pane Casome mi serve Posa 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 Mappa Posa Patata Posa Il sole Il sole Sta trondando Come si fa C'è per il cartello Oc Oclo 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 Nel prossimo video ci facciamo una miniera Ce la facciamo qui Raga io rientro in casa Per sicurezza e ci sentiamo alla prossima volta Casomai sta porta la barrico Arrivederci